Le difficoltà non mancano mai, ma non bisogna scoraggiarsi e cedere al pessimismo nel diffondere nel mondo la gioia della parola del Signore, anche attraverso l'impegno dei bambini. È l'esortazione che Papa Francesco ha rivolto ai partecipanti al IV Convegno Missionario Nazionale, promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana. A tutti il Pontefice ha ricordato che il Vangelo di Gesù si realizza nella storia e che il Figlio di Dio per primo fu un uomo della periferia, lontano dai centri di potere ma vicino ai poveri, ai malati, ai peccatori, alle prostitute. E la Chiesa anche oggi vuole e deve condividere questo tesoro, questa rivoluzione spirituale e umana. Uscire, ha proseguito Papa Bergoglio, è non rimanere indifferenti alla miseria, alla guerra, alla violenza delle nostre città, all'abbandono degli anziani, all'anonimato di tanta gente bisognosa e alla distanza dai piccoli. Il pensiero del Pontefice è andato poi ai tanti missionari martiri della fede e della carità che ci indicano che la vittoria è solo nell'amore e in una vita spesa per il Signore e per il prossimo. Una Chiesa missionaria non può che essere in uscita, che non ha paura di incontrare, di scoprire le novità, di parlare della gioia del Vangelo. a tutti, senza distinzioni, non per farle proseliti, ma per dire quello che noi abbiamo e vogliamo condividere, ma senza forzare, a tutti, senza distinzioni.